Inizierà il 6 dicembre l'udienza preliminare sui presunti brogli alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Calabria del settembre 2020. Lo ha deciso il gruppo Vincenzo Quaranta che ha fissato l'udienza dopo che il procuratore Giovanni Bombardieri, il sostituto Stefano Musolino, coordinatore del gruppo, e i PM Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo hanno chiesto il rinvio a giudizio per i 36 imputati. Tra questi c'è l'ex capogruppo del PD Antonino Castorina. Per l'accusa alle comunali avrebbero votato un centinaio di anziani che in realtà non si sono mai recati al seggio. In alcuni casi si trattava di persone addirittura decedute. I brogli sarebbero stati messi in atto grazie ai duplicati delle tessere elettorali ritirati negli uffici comunali da Castorina e dal suo entourage. L'ex capogruppo del PD è accusato di essere stato promotore, organizzatore e capo indiscusso di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti in materia elettorale, finalizzati ad ottenere le elezioni in consiglio dello stesso Castorina. Quest'ultimo, stando all'accusa, avrebbe mantenuto i rapporti con gli altri accoliti, ai quali avrebbe dato personalmente direttive in ordine al modus operandi da porre in essere per la materiale contraffazione dei registri e delle schede elettorali. A Castorina vengono contestati vari episodi di corruzione.